Signore e signori, buonasera, i nostri programmi proseguiranno ora con la nuova rubrica Arte e cucina, durante la quale il professor Petronillo vi illustrerà una nuova ricetta licenziata! Petronillo, professor Petronillo! Bene, cominciamo, questa sera presentiamo... No, non baccalà, no, sì sappiamo, a lei piace quello, ma ne parleremo un'altra volta Stasera tocca il tordo allo spiedo, siamo pronti? Bene, allora procurarsi innanzitutto un tordo No, professore, non un sordo, un tordo, con la T, come torta Capito? Professor Petronillo, non torta, tordo, quel gentile augelletto che dopo aver passato la notte nel nido col capino ripiegato sotto l'ala, si leva in sul far dell'alba e agitando le alucce cinguetta felice al nuovo sole Mi ha capito, professore? Sì? E allora? Sera, procuri! Uì, calma! Allora, professor Petronillo, trovato questo tordo? Oh, bravo, finalmente ci siamo arrivati Ecco, il tordo allo spiedo, bene Licenziato! Qui colmo No, caro Petronillo Che cosa da ridire? Con te per cucinarci da impazzire Non sempre direttore sa perché Perché per fare il brodo faccio presto Ti riassumo Per fare il brodo conosci un bel modo? Sì, più di un modo, però faccio presto E perché? Perché vuoi? Dice il vero Sì, signor, provo un po', sentirai che sapore Fresco serve a pregi dei piatti speciali Offra a tutti in dono tanti bei regali Tutti dicono che bontà È un brodo special di gran qualità Per cucinare ci sono mille un modo Per fare il brodo però faccio presto Sempre presto? Sì, signor Che bontà che sapore, provo un bel